Allora, buongiorno a tutti, Alfonso Selva, consulente finanziario. Oggi presenterò il mio libro dal titolo Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, che potete scaricare gratis dal mio sito e usare per referenziarmi ai vostri amici o clienti. Il libro parlerà nella prima parte dei pericoli di lasciare i soldi sul conto corrente, del fallimento della banca, dei costi commissione del conto corrente, della tassa patrimoniale, dell'inflazione, del mancato guadagno, il blocco del conto corrente da parte dell'agenzia delle entrate, il redditometro, l'evasometro e il risparmiometro. I pericoli li vediamo, appunto il fallimento della banca, che le banche possono fallire. Per evitare questo pericolo bisogna scegliere una banca solida e con un alto rating, questo è molto importante. I costi del conto corrente, differenziare fra quello dell'uso fisico e l'online, che costa generalmente molto meno. La tassa patrimoniale, che è di attualità grandissima in questo periodo, quindi i soldi sul conto corrente sono sicuramente una delle prime cose che una tassa patrimoniale potrebbe aggredire. L'inflazione, sembra che non ci sia, ma vi assicuro che c'è, e ruote i soldi giorno dopo giorno. Il mancato guadagno, perché i soldi che sono sul conto corrente non guadagnano assolutamente niente, anzi, perdono, come detto, per i vari problemi che sto dicendo. Il blocco del conto corrente da parte dell'Agenzia delle Entrate, che l'ha detto molte volte il nostro avvocato presidente. E il redditometro, l'evasometro, il risparmiometro, perché è appunto sotto la lente dell'Agenzia delle Entrate per controllarci cosa facciamo in tutti questi campi. Nella seconda parte il libro parla di dove investire, il confronto tra varie possibilità di investimento, attività reali, attività monetarie, e cosa sono le attività reali, e il confronto tra vari tipi di attività reali. Allora, cosa sono le investimenti in attività reali o monetarie? Le attività reali sono azioni, materie prime, immobili, opere d'arte e capacità umane particolari. In questa slide vi faccio vedere le azioni di Amazon, il petrolio, che è una materia prima come l'oro, l'arte, con un dipinto famosissimo, gli immobili in costruzione e Mozart, che rappresenta le capacità umane particolari che si può associare anche all'arte, perché sono delle cose uniche e non riproducibili da altre. E cosa sono invece le attività monetarie? Beh, sono le obbligazioni dello Stato e le obbligazioni delle società private. Le obbligazioni dello Stato tipicamente sono i BOT, i BTP e i CCT. Le obbligazioni delle società private sono per esempio quelle che emette Allianz, una società assicurativa, Enel, una società che tutti conosciamo, o Apple, e mettono queste obbligazioni per finanziarsi, per avere dei soldi per finanziare il loro business. Nell'altra parte parlo delle azioni contro gli immobili, che i criteri che ho usato per confrontarli, e gli altri vari tipi di investimento e come usarli. Facciamo un confronto fra le due attività più conosciute che usiamo un po' tutti, le azioni o gli immobili. Chi vince fra le due? Ho usato sei criteri di confronto per renderle più omogenee, la liquidabilità, il costo, il possesso fisico, il livello di rischio, il trattamento fiscale, la diversificazione. Nel libro ci ha spiegato tutto. E il vincitore, il rullo di tamburi, sono le azioni, perché vincono quattro volte e una pareggiano. Facciamo ora un confronto fra le attività reali e le attività monetarie. La percezione comune è che le attività monetarie sono molto, molto più sicure dell'attività reale, cioè i BOT, i BTP e i CCT dovrebbero essere sicuri. Ma è proprio così? Assolutamente no. Con una serie di grafici vi dimostro la verità della mia affermazione. I titoli di Stato intanto oggi non rendono più nulla, anzi sono negativi. E in questa slide vedete tutte queste parti rosse? Sono tutti i titoli in rendimento negativo, cioè voi date i soldi e vi danno di meno in tutti questi stati. E ho ultimamente anche peggiorato. Questo si è spostato un po' più qua anche per l'Italia. Poi un'altra cosa che nel passato si credeva sicura è le obbligazioni delle banche che si credevano super sicure oggi rendono poco o niente e sono a rischio come è successo nel recente passato. Vi ricordate queste banche? Beh, penso che tutti quanti le abbiamo lette su giornali e in televisione. Ora vediamo qualche grafico che confronta le due attività. Per darvi un termine di paragone non solo credere a quello che vi dico io. Questo è un grafico bellissimo, lunghissimo che va dal 1802 al dicembre 2014 e fa vedere le azioni, i bond, i titoli di Stato a breve termine, l'oro e il dollaro come sono andati. Beh, ve lo riassumo qua. Le azioni hanno reso un 6,7% all'anno, le obbligazioni hanno reso un 3,5% all'anno, l'oro ha reso uno 0,50% all'anno e il dollaro ha perso ogni anno l'1,4%. La famosa inflazione e perdita di potere d'acquisto. Questo è un altro grafico dove viene evidenziato 100 euro investiti a fine 2008 quanto sono diventati a settembre 2019. Poi, ve lo andate a vedere bene, ma ve lo riassumo, chi ha investito in fondi azionari e acqua, i 100 euro sono diventati da 353 a 432 con un rendimento da un minimo del 12,5% a un massimo del 14,6%. I BTP sono diventati da 100 a 176 i BOT da 100 a 109 euro. Non è un grande investimento assolutamente. Quest'altro grafico fa vedere quanto si perde a lasciare i soldi sul conto corrente perché 10.000 euro a lasciare sul conto corrente in 20 anni diventano 6.600 mentre invece 10.000 euro in 20 anni investiti in azioni diventano 27.000 rotti con tutte le varie declinazioni per le altre possibilità. Quindi quale metodo usare per investire in attività reali? Beh ci sono la gestione attiva o la gestione passiva gli ETF i Bitcoin e il metodo da usare per fare tutto il progetto generale e le conclusioni nel libro. Allora la gestione può essere attiva o passiva che vuol dire attiva è quella generalmente che fanno i fondi comuni di investimento quella passiva sono gli ETF e poi nel libro è spiegato cosa è un ETF e perché e per come ma oltre a fondi comuni ETF materie prime e immobili di cui ho parlato fino adesso esistono altre possibilità di investimento? Sì esiste una di recente uso il Bitcoin lo conoscete un po' tutti per sentito dire beh il Bitcoin vi do qua un flash su cos'è il Bitcoin è una criptovaluta che non è inflazionabile non è centralizzata è alternativa alle altre valute è una riserva di valore simile a loro e usa la blockchain in pubblica nel libro è spiegato queste varie caratteristiche però essendo una tipologia di investimento molto recente ha avuto degli alti e bassi molto accentuati ma gli esperti pensano che nel tempo si ridurrà la volatilità della sua quotazione questo è un po' un grafico per farvi vedere dal 2012 ad oggi come è andato da zero è arrivato fino a 35.000 euro oggi intorno ai 30.000 euro e degli alti e bassi molto molto elevati che però paragonandolo con altri picchi di le azioni giapponesi le azioni tecnologiche del Nasdaq e l'oro e quant'altro anche questi hanno avuto dei picchi e delle discese molto alti quindi non è l'unico che fa a questi alti e bassi qual è il mio metodo di lavoro che spiego nel libro e che applico tutti i giorni incontro il cliente esamino la sua situazione capisco i suoi obiettivi pianifico la sua situazione successoria pianifico la protezione del patrimonio condivido con lui gli strumenti da usare assisto il cliente nei momenti negativi di mercato che è importantissimo pianifico la manutenzione nel tempo degli strumenti usati e raggiungere gli obiettivi di vita che è il fine di tutto quanto ricordati una cosa importante che solo il consulente finanziario scritto all'OCF che è l'albo nazionale è abilitato alla consulenza dei tuoi soldi e non quei charlatani che si trovano su TikTok su Facebook o su YouTube che dicono questi ragazzetti di vent'anni che vestono così i miei canali social sito internet podcast Facebook LinkedIn Instagram Twitter e Telegram qui è il mio sito internet qui è il podcast questo è il mio Facebook il gruppo Facebook e il mio LinkedIn qua vi ho messo poi tutti i link dove andare a cliccare per collegarvi e vi ringrazio a tutti per l'ascolto e vi voglio bene se avete delle domande sono qua allora grazie grazie mille Alfonso molto interessante la tua presentazione che sicuramente andrà grazie mille grazie mille